Ritrovati un saluto, come state? Vi invito a lasciare un bel like qui sotto e a iscrivervi qui sul logo L. Mi raccomando, parliamo di tutto, parliamo di tutto. Sapete che io utilizzo sempre dei toni molto pacati, non mi piace mai sbracare, bisogna essere anche rispettosi di tutti, educativi. Oggi però nel titolo un bel ma state zitto, in formula educorata vorrei iscrivere o pensare anche ad altro, o meglio penso ad altro, vuoi dire anche ad altro, ma non lo faccio perché non cado in comportamenti sbagliati a differenza di qualcun altro. Nel video, nella copertina avete visto Cassano. Cassano, giocatore che secondo me poteva essere forte, era a tratti forte, ma che ha buttato via tanto talento, quindi chi ha tanto talento lo butta personalmente non ha la mia stima, lo dico a priori. Non mi è piaciuto poi come ha, diciamo così, sbattuto la porta in certi casi, quando delle volte deve essere riconoscente, anche di fronte a problemi seri. Insomma, lo dico, a me Cassano non sta simpatico, questa volta voglio dirgli un bel ma state zitto Cassano, che sapete adesso inizia a sdottorare, cioè ha iniziato da un po' a sdottorare su diverse piattaforme, con l'idea del io giocato a calcio voi chi siete, sempre con tanta presunzione che sfocia spesso in arroganza, con alla base forse, forse, non lo so, ma l'educazione, dite voi, fa ognuno il proprio pensiero. Adesso parla di Ancelotti, Carlo Ancelotti, indipendentemente dalla fede che uno può avere, Carlo Ancelotti non può non essere ritenuto tra i migliori tecnici degli ultimi vent'anni. Qualsiasi difoso di qualsiasi squadra non può dire il contrario. Lui commentando il Real dice, con tutto il rispetto che si può avere nella vita, bisogna avere anche un gran culo, se la vogliamo dire tutta, perché poi inizieranno a dire, hai vinto tanto con la squadra e con quell'altra, perfetto, hai vinto, Ancelotti è messa, simpatico, già mi sto perdendo, una brava persona, però ha già avuto un grandissimo C col PSG e ne è venuto a capo. L'altro giorno sotto 3-0 col Chelsea ha preso una rumba clamorosa, se Courtois non fa quella parata su Avers di testa, eh sì, fa parte del calcio. Allora se l'altro non fa il terzo gol, se Modric non mette quella palla, è che c'entra, deve mettere a lui quella palla. Nella vita ci vuole anche chi ha visto le partite di quest'anno, il Real non gioca bene, c'è Benzema che fa il fenomeno, Modric che gestisce la situazione, Alava che sta facendo bene dietro, poi però vai nello specifico. Il Balciano è partito molto in ritardo, eccetera, eccetera, fa dei distinguo. Il Real Madrid gioca molto male, lo abbiamo visto col PSG che doveva prendere sette gole e si ritrova in semifinale. Io vedo le partite, vedo mille partite del Chelsea, quindi il Real Madrid non ce l'ho ti fa stare bene, ma non mi viene in mente neanche un calciatore che abbia valorizzato la sua carriera. Ora, basti pensare a Clarence Eidorf, che era un esubero dell'Inter, basti pensare a i giocatori che lui aveva al Milan in quegli anni, Nesta arriva da Lazio e gli fa fare un salto di qualità a livello europeo, valorizza addirittura giocatori che sembravano quasi finiti come Cafu, Pancaro, per dire anche i livelli inferiori. Con lui Shevchenko era stratosferico, lo stesso Kakà, finché era lì era stratosferico, Ambrosini, Gattuso, ma di cosa stiamo parlando? E adesso comunque riesce a valorizzare un giocatore che sta vivendo il suo momento migliore della carriera, grazie anche a un mister come Carlo Ancelotti, Benzema di quest'anno l'abbiamo mai visto, anche i termini numerici, pur essendo stato un attaccante ed è un attaccante fortissimo stratosferico. Ora, dire che tutto si riduce alla fortuna di Ancelotti, secondo me è piuttosto sbagliato. Andando a vedere, poi vediamo la risposta di Ancelotti, il Palmares di Ancelotti, una Coppa Italia, un campionato italiano, una Supercoppa italiana, una Community Shield, un campionato inglese, una Coppa d'Inghilterra, un campionato francese, una Coppa di Spagna, due Supercoppa di Germania, un Campionato tedesco, una Supercoppa di Spagna, tre Champions League, record, record, tre Supercoppe UEFA, due mondiali per club, tutti vinte per fortuna. Diciamo che per sfortuna forse non ne ha vinto un'altra di Champions League, con una partita pazza che passerà la storia. Detto questo, il signor Cassano, secondo me, dovrebbe finire di sparare. Poi mette sempre in mezzo le parolacce, a me non piace anche questo, sembra il bulletto di quartiere che ragazzini, appunto, per farsi più spesso, più grosso, più figo, ma non lo sei, ci mette dentro la parolaccia ogni 2x3 quando apre bocca. Mi sembra rimasto a quei livelli lì, mio parere personale, poi ognuno ha proprio giudizio, io giudico quello che sento, che leggo, perché non li seguo, ma ho letto adesso questa notizia e mi ha fatto accapponare la pelle. Dopodiché, il mister Carlo Ancelotti, persona squisita, Ah, tra parentesi, Real Madrid, che quest'anno è in semifinale di Champions, ha fatto fuori il PSG, ha fatto fuori il Chelsea, non mi sembra esattamente due squadrette. Real Madrid, che a detta di tutti in estate, ci dicevano essere il peggior Real degli ultimi anni, è ormai campione di Spagna, con 15 punti in più rispetto al Barcellona, 75 contro 60, anche se Barca ha due gare in meno, però sarà tutta soltanto fortuna, no? Sarà quello, sarà semplicemente solo fortuna. Il mister Carlo Ancelotti, vi dicevo, persona squisita, che è uno che tende sempre a sorridere anche di fronte a critiche, è uno davvero una bella persona, che si fa voler bene, ma perché è brava persona, non perché è paraci, puntini, puntini, dice Cassano lo conosciamo tutti, non ho niente da rispondergli, lo mette lì, nell'angolino, con questa frase semplice, senza offendere nessuno, ma fa capire che lui evidentemente lo compatisce. E questo è, lo conosciamo tutti, non ho niente da rispondergli, non si abbassa al suo livello, e si dimostra ancora una volta di un profilo umano, culturale, infinitamente superiore rispetto al signor Cassano. Che ormai, se non dice una parolaccia, non offende qualcuno in ogni video, o non dico critica, perché a volte ci sono critiche costruttive, lui distrugge, o meglio prova a distruggere, no? Se non lo fa in ogni video, in ogni diretta non è contento, e non si costruisce il personaggio. A me questa cosa non piace, avrei detto lo stesso per altri tecnici super vincenti come Carlo Ancelotti. si può dire tutto, ma ridurre al C puntini puntini si può dire anche fortuna, è vero che ormai, però sai, anche recentemente ne ha sparate tantissime, con squadre, ha fatto pronostici puntualmente poi smentiti, riduce tutto, minimizza tutto quello che non li riguarda, e si sente onnipotente. No, no, secondo me non ci siamo proprio, e dico che in maniera, ripeto, leggera, simpatica, ma state zitto, state zitto, siamo tutti, siamo tutti meglio, eh? O se proprio devi parlare, farlo in maniera più rispettosa, educata, civile, senza sempre parolacce, meno da fenomeno, meno da fenomeno, io, se avessi avuto il tuo talento, buttandosi via così, non è che lo direi, ah, io se avessi avuto la testa giusta, io mi vergognerei a dire certe cose, mio parere, poi ognuno è fatto a modo proprio, però, state un po' zitto, Ancelotti, solo fortuna, ciao. Ciao.